Marco Roncassaglia, GPO il molese Tubertini, oggi quarti assoluti, secondi assoluti in classifica generale a mezza penalità dalla Castel Maggiore. Marco, innanzitutto i nomi dei tuoi compagni di squadra di oggi? Oggi ha pescato con noi Ferioli, Minguzzi, Selva e io. Bene, complimenti, una bella gara, 12 punti. Ma sì, Angelo, per come siamo messi noi in acqua alta, secondo me veniamo fuori con un ottimo risultato. Abbiamo due persone come Ferioli, Minguzzi, che qui dentro non sbagliano un colpo, però siamo veramente contenti perché qui dentro si poteva caricare di punti, anche con tanti punti. La pescata è stata prevalentemente con i canini corti, dai 2 metri a mezzo fino ai 3 metri a mezzo, chi era capace di farlo. Io ho pescato con la cima della Rubasien perché mi rendeva di più e mi rendeva meglio, visto che non sono fortissimo sulla pesca dei canini. Beh, comunque diciamo che è una bella soddisfazione uscire con questo risultato da un campo di gara così insidioso. Adesso ce ne aspetta un altro altrettanto insidioso che è Riolo. Sì, ci aspetta il Riolo che per tutto agosto ha dato buone soddisfazioni, per le ultime prove, le ultime gare si sta prendendo poco. Speriamo che cambi e che sia una bella pescata per tutti poi soprattutto. Oggi parlano di una moria in atto in Riolo, c'era del pesce morto. Io ieri non c'ero, so chi c'è andato, ha visto dei pesci morti, è un'acqua di un colore poco descrivibile, però non so quale sia la causa e cosa ci aspetterà per il 23 settembre. Vabbè, intanto ci godiamo questo risultato, poi dopo alla prossima. Grazie mille, Anzo. Grazie mille.